start. Dunque, oggi vedremo ancora una simulazione tratta da un tema d'esame, tema d'esame molto recente e abbastanza difficile, quindi non so se riusciamo a finirla, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, trovate il link al repository GitHub che potete forcare e clonare dalla pagina di registro del sito. Il repository non è sul nostro namespace, ma è su TDP esami, ok? Ed è questo qua. In particolare, il link punta già al branch soluzione, io ora ci vado dentro. Ho già risolto il punto 1 perché vogliamo concentrarci sulla simulazione e quindi se volete farlo anche voi, forcate e clonate il branch soluzione, va bene? Dunque, leggiamo un attimino il testo per capire di cosa si tratta. Il database Power Outages, non l'abbiamo mai usato, credo, contiene informazioni relative ai blackout che si sono verificati dal 2000 al 2014 negli USA. Il database è composto da 7 tabelle, ma noi in realtà ne utilizzeremo solo 3. La struttura in figura 1 dovrebbe essere nella pagina seguente, eccola qua. Abbiamo 3 tabelle in cui vengono modellati i NERC che possiamo considerarli come i fornitori di energia, le loro relazioni di confine, NERC relations, e la tabella Power Outages che modella tutte le interruzioni di corrente. Quindi abbiamo, al di là dell'ID, quello che ci interessa a noi è probabilmente il NERC ID, cioè l'interruzione di corrente avvenuta in un determinato NERC, la data di inizio, la data di fine, eccetera. Dunque, vediamo brevemente cosa chiedeva il punto 1. Il punto 1 chiedeva di costruire un grafo in cui i vertici erano in NERC e gli archi erano semplicemente le relazioni di vicinanza, un po' come per gli stati, stessa roba. Il peso, invece, andava calcolato come il numero di mesi distinti, tenendo conto degli anni, in cui c'è stata almeno un'interruzione di corrente in ciascuno dei due NERC considerati, quindi in ciascuno dei due NERC vicini. Indicativamente, il peso è un indice di correlazione delle interruzioni di corrente tra i due NERC. C'era anche un esempio. Considerando gli eventi nella tabella, con i D0 e i D3, queste due interruzioni di corrente sono entrambe avvenute a giugno 2015, anche se in giorni diversi. Quindi il mese di giugno 2015 contribuirà con un valore di 1 al peso dell'arco. E via dicendo, se c'erano altre interruzioni nel mese di novembre, si sommava 1 al peso. E via così. Dopodiché, popolare il menu a tendina con la lista dei NERC, è il clic del bottone visualizza vicini, stampare il NERC con la lista di tutti i vicini e il peso dell'arco che li collega, ordinati in un certo modo. Classico punto finale del punto 1. Dopo lo vediamo rapidamente, ma non stiamo lì a perderci tempo, non è quello che ci interessa oggi. Quello che ci interessa oggi è la simulazione. Effettuare una simulazione è dato il grafo costruito di tutte le interruzioni di corrente. Le simuliamo tutte. Per verificare se il modello proposto per la prevenzione delle catastrofi energetiche sia efficace. Quindi il nostro grafo. Per garantire la continuità di servizio, ad ogni interruzione di corrente, il NERC affetto chiede ad uno dei vicini un aiuto per coprire il suo fabbisogno energetico durante il blackout. L'utente inserisce nella casella di test un numero di mesi K e fa clic sul bottone simula. Per ogni interruzione di corrente occorre creare due eventi. Quello di inizio e quello di fine interruzione. Quindi qui ci dà già un suggerimento su quanti eventi possiamo avere. Gli eventi sono ordinati cronologicamente ovviamente. Alla ricezione del primo, quindi l'inizio di una interruzione, il NERC affetto chiede aiuto ad uno dei vicini con un certo criterio. E questo criterio è dato da questi tre punti qui. Allora, il primo punto da verificare è se c'è un NERC X a cui io stesso ho donato energia negli scorsi mesi. Se c'è un, chiamiamolo debitore, prendo lui. Ok? Mi faccio restituire il favore. Se non c'è nessun vicino debitore, allora scelgo il vicino che ha l'indice di correlazione, quindi il peso dell'arco più alto. No, minore, scusate. Non più alto, minore. Nel caso in cui il criterio 1 trovi più di un debitore, o donatore, si scelga quello che soddisfa il criterio 2. Quindi, se ho più vicini che mi devono un favore, scelgo quello che ha indice di correlazione minore. Un vincolo aggiuntivo è che ciascun NERC possa aiutare un solo altro NERC per volta. Quindi tutti i criteri precedenti vanno bene solo per quei NERC che in quell'istante non stanno donando energia ad altri vicini. Alla ricezione del secondo evento viene registrato per il NERC che mi fa questo favore un bonus, pari alla durata di giorni del disservizio. Se non riesco a trovare nessun vicino, si verifica una catastrofe. Il blackout non è sormontabile e quindi c'è una catastrofe energetica. Al termine della simulazione stampare il numero di catastrofi e il bonus guadagnato da ogni NERC che ha prestato energia. Domande? Non è facilissimo, immagino ci siano N soluzioni diverse. Io vi propongo la mia che ho provato a fare, ma sicuramente possono esserci alternative. Il peso dell'arco sarebbe il numero di mesi distinti in cui è avvenuta sia un'interruzione di corrente in uno che nell'altro. Allora, andiamo sul progetto Eclipse. Non starei lì a perdere tanto tempo a farvi vedere il punto 1, se volete controllatelo o provate a farlo, perché altrimenti non riusciamo a fare il punto 2. Supponiamo di avere un grafo semplice, pesato, che già contiene tutto quello che ci serve per il punto 2. Quindi NERC come vertici e l'indice di correlazione come peso degli archi. Va bene. Allora, come al solito, iniziamo a crearci le nostre due classi che sicuramente avremo nel package model, una classe per il simulatore e una per l'evento. Giusto? Inizio a creare la nuova classe simulatore e già che ci sono mi creo già anche la mia classe evento. Allora, qui il testo ci dice simulare tutte le interruzioni di corrente. Se andiamo a vedere nei vari package vediamo che nel progetto base c'era solo il NERC. Va bene? Non venivano modellate neanche estratte dal database le interruzioni di corrente. Quindi dobbiamo crearci un Java bin per l'interruzione di corrente e crearci anche il metodo del DAO per recuperare tutte le interruzioni di corrente dal database che vogliamo simulare. Allora, mi creo dentro sempre il package model una nuova classe power outage partiamo da qui che sicuramente è una cosa che andrà fatta. Andiamo a vedere cosa dobbiamo recuperarci dal DB perché non è detto che dobbiamo recuperarci tutti i dati della tabella prendiamo solo quello che ci serve. Ci servirà sicuramente un riferimento al NERC l'ID per definirci i nostri hash code equals e poi io direi che ci basta sapere la data di inizio e la data di fine. Gli altri campi mi sembrano abbastanza superflui. quindi vado a definirmi i miei campi l'ID dell'interruzione di corrente un riferimento al NERC scelgo di metterci direttamente l'oggetto così ce l'ho ok e poi le due date local date time inizio devo importare la classe e fine come al solito poi posso usare clips per farmi generare tutto quello che mi serve quindi source generiamo il costruttore con tutti i campi generiamo i get resetter direi di tutti i campi ok e molto importante generiamo anche l'hashcode e l'equals source generate hashcode and equals sempre il solito discorso siamo nell'ambito dei database ci basta mettere la chiave primaria della tabella che in questo caso è l'ID genera perfetto dimmi sì ma noi estraiamo tutti i tutti i record della tabella quindi sì potenzialmente sì eh sì si hanno lo stesso l'ID non è l'ID del NERC è l'ID dell'interruzione di corrente ok poi useremo il campo NERC ID per recuperare un riferimento al NERC bene adesso definiamoci nel DAO che devo trovare eccolo qua un metodo per ottenere oltre a tutti i NERC tutte le interruzioni di corrente lo definisco qua sopra public list power outage che è la classe che abbiamo appena definito load all power outages anche qui mi servirà la mappa perché ho detto che voglio avere un riferimento in NERC quindi come parametro mi passo anche l'identity map qui in questa soluzione addirittura l'identity map è modellato in una classe separata va bene ma non cambia poco potrebbe essere direttamente una mappa importo la classe e per semplicità mi copio questo metodo e poi lo vado a modificare ok copio incollo e cambio quello che mi serve innanzitutto la query dunque per la query abbiamo detto andiamo a prendere l'id poi vediamo nella tabella il NERC id e le due date date event began e date event finished ovviamente non dalla tabella NERC ma dalla tabella power outages poi la lista ovviamente non sarà di NERC ma di power outage power chiamiamola power list va bene qui ovviamente non andremo a creare un NERC ma andremo a creare un'interruzione di corrente uguale new power outage di che cosa ah dobbiamo dargli un nome ci sarà sicuramente il campo id get int id poi la tabella ci restituisce l'id del NERC ma noi usiamo la mappa per recuperare il riferimento al NERC quindi nadmap punto get d res punto get int NERC id giusto? e poi abbiamo le due date res punto get timestamp qui dobbiamo vado a capo così si vede dobbiamo copiare i due campi quindi la prima data di inizio punto to local daytime virgola stessa cosa per la data di fine res punto get timestamp vado a copiarmi il campo punto to local daytime punto e virgola abbiamo creato l'oggetto lo aggiungiamo nella nostra lista power list punto add po e ritorno ovviamente la mia power list molto bene allora andiamo ora abbiamo tutti i metodi che ci servono andiamo alle nostre classi principali partiamo dal simulatore e iniziamo di nuovo a ragionare come l'altra volta sui 3-4 punti fondamentali prima di partire innanzitutto il modello ovvero lo stato del sistema qui abbiamo sempre ovviamente il grafo che modella il nostro sistema quindi dovremmo ricevere un riferimento al nostro grafo che è un grafo di NERC default weighted edge poi un'altra cosa che sicuramente dovremmo avere default forse devo importare prima grafo e poi mi fa importare default weighted edge un'altra cosa che dovremmo avere del modello sono tutte le interruzioni di corrente che vogliamo simulare quindi dall'esterno qualcuno ce le comunicherà private list di power outage poi c'è ancora una cosa del modello che dobbiamo verificare ogni volta ed è relativo a questo vincolo qua no non questo scusate al vicini che mi sono debitori da qualche parte questa informazione dovremmo averla no? cioè dovremmo ogni volta salvarci il fatto che io sto prestando energia al mio vicino Y così che la prossima volta io chiedo a Y se mi ricambia il favore giusto? allora io ho immaginato di avere una mappa prestiti in cui la chiave sia un NERC ad esempio io e il valore sia un elenco di vicini a cui ho prestato dell'energia che diventano conseguentemente i miei debitori un set di NERC dopodiché questa è la mia soluzione magari ci sono soluzioni alternative più furbe però e qui dentro vado a salvarmi tenere traccia di tutti i prestiti che faccio poi abbiamo i parametri della simulazione qui diciamo che i parametri ce n'è solo uno perché il testo ci chiede di simulare tutte le interruzioni di corrente e quindi quelle saranno l'unica cosa detta dall'utente sono i mesi K i mesi K in cui andare a vedere indietro i prestiti poi abbiamo i valori in output che sono abbiamo detto il numero di catastrofi semplicemente un intero e i bonus guadagnati da ogni NERC vi ricordo che un NERC quando presta energia guadagna un bonus dobbiamo stamparli in output allora mi definisco anche qui una mappa in cui ogni NERC sia associato a un bonus supponiamo un long nel caso in cui i bonus siano dei numeri molto grossi ma probabilmente basterebbe anche un intero bonus manca l'ultima cosa fondamentale per la simulazione la coda è sempre una priority queue di evento e a me sembra tutto non so se avete suggerimenti ma poi man mano andando avanti vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa ah no c'è ancora una cosa in realtà questo vincolo qua che un NERC possa aiutare un altro NERC solo se non sta prestando energia come facciamo a modellarci questa informazione ci sono anche qui varie strade potremmo avere un'altra ennesima struttura dati per tenere traccia di questo una soluzione un po' più rapida forse è direttamente salvarsi questa informazione nel NERC cioè vado a modificare il mio bin relativo al NERC aggiungendogli un booleano si può fare non è che non potete modificare le classi che ci sono già boolean sta prestando dopodichè questo booleano lo mettiamo di default a false ma facendoci generare anche i getter e i setter per questo campo possiamo poi andare a modificare questo valore e impostare un determinato NERC come sta prestando energia generale getter e setter per sta prestando quindi ci sono due possibilità o ci definiamo delle strutture dati come abbiamo fatto con prestiti nella classe simulatore oppure possiamo agire direttamente nel bin NERC un'altra soluzione poteva essere salvarsi anche qua dentro i prestiti va bene ora dovremmo avere veramente tutto come al solito abbiamo due metodi init e run cosa riceverà il metodo init dall'esterno sicuramente il parametro k la lista di power outages giusto magari l'identity map dei NERC che forse useremo e sicuramente alla fine riceverà anche il riferimento al grafo meno copio da qua eccolo eccolo qua dopo di che prima cosa da fare è creare tutte le strutture dati perché altrimenti riceviamo valanghe di null pointer exception quindi creiamo innanzitutto la coda e le due mappe quindi quella per i bonus che è di NERC long e quella dei prestiti NERC set di NERC sì sì nel costruttore sì allora la differenza potrebbe essere questa che se tu fai queste inizializzazioni nel costruttore hai il rischio che se usi lo stesso simulatore per simulare più volte il programma potrebbero rimanere sporche con i valori precedenti mentre mettendole qua nel metodo init ogni volta che chiami il metodo init queste vengono distrutte e ricreate questa è l'unica differenza dopodiché non c'è una soluzione giusta o sbagliata l'importante è capire cosa stai facendo dopo averle create dobbiamo impostarle con i valori iniziali quali sono i valori iniziali per queste due strutture dati soprattutto le ultime due allora per la prima bonus a zero per tutti per la seconda un set vuoto per tutti attenzione che qui essendo una mappa di set da qualche parte dobbiamo ancora fare una new del set altrimenti riceviamo poi una null pointer exception quindi non ci basta fare la new della mappa ma per ogni campo della mappa dobbiamo fare la new del set quindi un bel for per tutti i miei NERC che posso prendere dalla identity mappa identity map chiamiamola NERC map punto values cosa faccio metto il bonus a zero quindi dis punto bonus punto put n zero ah ok essendo dei long dobbiamo dirgli sempre long punto value of zero non possiamo passargli uno zero così perché sennò lui lo interpreta come intero e poi dis punto prestiti punto put andiamo a crearci il set inizialmente ovviamente vuoto per ogni NERC n new hash set di NERC eh parentesi dobbiamo importare hash set ok occhio perché questa new è fondamentale e forse si presta a essere dimenticata ma se non la fate non funziona più niente poi possiamo impostare le catastrofi inizialmente a zero mi pare ragionevole e basta lo stato iniziale dovrebbe esserci riceviamo i vari parametri quindi ci salviamo k le interruzioni di corrente e il grafo quindi ricevo i parametri e me li salvo nei miei attributi interni che mi potranno servire successivamente e poi qui dobbiamo creare gli eventi iniziali per poi permettere all'utente di fare run e qui quindi possiamo iniziare a ragionare sugli eventi anche qui secondo me ci sono più soluzioni io l'ho vista così simulo cioè all'inizio inserisco nella coda tutti gli eventi di inizio interruzione va bene perché allo scatenarsi di ogni evento di inizio io devo vedere se c'è un vicino disponibile quindi al verificarsi di un evento di inizio guarderò se c'è un vicino disponibile a darmi energia se non c'è c'è una catastrofe e tutto si ferma lì se c'è schedulo l'evento di fine schedulo l'evento di fine dove io andrò a premiare colui che ho scelto con un bonus questa è la mia idea è chiaro? c'è ancora una cosa in più però il discorso dei prestiti i prestiti non vengono salvati all'infinito ma è come se durassero k mesi lo dice il testo cerco tra i vicini che a cui ho donato energia negli ultimi k mesi se gliel'ho donata prima non mi interessa più quel prestito e allora la mia idea è di avere un evento aggiuntivo schedulato sempre quando capita l'evento di inizio evento di inizio trovo un donatore mi salvo il prestito e schedulo oltre all'evento di fine del blackout l'evento k mesi dopo in cui cancellerò quel prestito perché non lo guardo più questa era la mia idea secondo me ci sono n soluzioni alternative in cui ad esempio tra cui ad esempio tenersi traccia delle date dei prestiti e ogni volta controllare che questa data non sia antecedente ai k mesi però almeno in questo modo vediamo un evento in più la simulazione termina quando tutte le interruzioni di corrente sono state simulate tutte quelle che ci sono nel db esatto esatto no il bonus è indipendente dai prestiti cioè il bonus no i prestiti non li vuole vedere è solo una cosa interna in cui quindi io nella mia classe evento mi immagino tre tipi di evento public enum tipo inizio interruzione fine interruzione cancella prestito ovviamente avendo degli eventi diversi tra di loro soprattutto il cancella prestito avremo dei campi in questa classe che useremo per un tipo ma non per un altro però questo non dovrebbe creare creare problemi allora vediamo cosa salvarci per l'evento sicuramente avremo il nerc a cui è relativo l'evento sicuramente avremo avremo il nerc donatore soprattutto per i primi due tipi di eventi quindi il nerc è il donatore che sta donando a quel nerc avremo avremo il tipo di evento poi avremo la data la data esatta in cui si verifica questo evento dopo di che li aggiungiamo subito perché ci serviranno visto che ad esempio al verificarsi dell'evento di inizio noi dovremo schedulare l'evento di fine ci salviamo anche due riferimenti alle due date il discorso è che questa data sarà quella che useremo per ordinare nella coda gli altri due saranno due riferimenti che useremo al bisogno ovviamente per un evento di inizio questa data qua sarà uguale a questa e viceversa per un evento di fine questa sarà uguale alla data perfetto solite cose mi faccio generare dal clips il costruttore i getter e i setter e molto importante questa classe evento deve implementare comparable per essere inserita nella coda prioritaria adesso ci facciamo implementare il metodo e qui come detto usiamo il campo data per ordinare gli eventi this punto data punto compare to usiamo il compare to di local day time di o punto get data così questi eventi verranno ordinati cronologicamente per il campo data bene posso tornare al simulatore e dicevamo inserisco gli eventi iniziali che sono tutte l'inizio delle interruzioni di corrente quindi for power outage po in this punto power outages creo il nuovo evento new evento qui dobbiamo fare attenzione all'ordine dei parametri abbiamo per prima cosa il tipo che sarà evento punto tipo punto inizio interruzione poi avremo il nerc po punto get nerc poi c'è il donatore qui non lo sappiamo ancora il donatore quindi lo impostiamo null non ci serve per l'inizio perché dovremmo sceglierlo all'inizio quindi per il momento non lo utilizziamo poi vediamo cosa abbiamo la data quella su cui verrà fatto l'ordinamento in questo caso è po punto get inizio perché è l'evento di inizio poi ci salviamo i riferimenti alle due date quindi di nuovo po punto get inizio e po punto get fine perché potranno servirci per fare determinati calcoli abbiamo ancora qualcosa no non è qua è qua no finito punto e virgola fatemi chiudere questo eccolo qua creato l'evento lo aggiungo alla mia coda perfetto possiamo andare avanti col metodo run la struttura è sempre la stessa vado a prendermi l'evento dalla coda e continuo finché la coda non mi restituisce nulla quindi è uguale q punto poll non pic ma poll diverso da null qui a differenza delle simulazioni più facili dove abbiamo un solo tipo di evento dobbiamo inserire anche uno switch case per capire che tipo di evento stiamo simulando quindi uno switch di e punto get tipo abbiamo tre casi il primo è inizio interruzione inserisco già il break il secondo il secondo è fine interruzione break e il terzo è case cancella prestito questo è lo schema generale all'interno di ogni case andiamo a mettere il codice per ogni tipo di evento dunque partiamo dal dal più facile o dal più difficile partiamo dai più facili cosa dobbiamo fare quando l'interruzione è finita dobbiamo dobbiamo assegnare un bonus al donatore e dire che il donatore non sta più prestando allora per il bonus ho la mia identity non la mia identity ma la mia mappa di bonus quindi vado a vedere nell'evento se e punto get donatore è diverso da null vuol dire che c'era un donatore e allora gli do un bonus bonus dis punto bonus punto put il nerc e il donatore e qui attenzione che dobbiamo modificare l'eventuale valore che c'era già perché uno può accumulare dei bonus quindi modifico il valore che c'era già bonus punto get di e punto get donatore più qual è il bonus che dobbiamo dargli un bonus pari alla durata in giorni del disservizio allora noi abbiamo le due date ed è per questo che lo salvate nell'evento e possiamo usare la classe mi pare duration punto between le due date quindi e punto get data inizio e punto get data fine punto se non mi sbaglio punto to days questo fa proprio quello che chiedeva il testo ovviamente se è una classe che non abbiamo mai usato durante le lezioni all'esame vi diciamo quale classe usare per fare dei calcoli veloci così ora però l'avete visto e quindi sapete usarla questo è il bonus e poi dobbiamo dire che il donatore non sta più prestando e punto get donatore abbiamo definito un campo del donatore set sta prestando a false cancella prestito abbiamo la tabella prestiti sappiamo che qui sono passati k mesi da da questo dall'interruzione e quindi possiamo semplicemente rimuovere dai prestiti non dai prestiti dal set dall'ash set di quel NERC il il NERC cioè dai prestiti del donatore quello che ha donato rimuovo dal suo set il NERC così si cancella la traccia del prestito del prestito che aveva ottenuto ovviamente il donatore questi sono i due più facili adesso c'è quello difficile quello in cui dobbiamo fare più roba allora l'idea è il NERC per cui c'è l'interruzione me lo recupero dall'evento l'idea è cerco se c'è un donatore altrimenti catastrofe quindi io me lo sono proprio immaginata così mi definisco una variabile donatore donatore uguale a null farò del codice per vedere se c'è un donatore e poi vedo se scusate donatore è diverso da null vuol dire che l'ho trovato altrimenti catastrofe quindi secondo me è sempre meglio provare a ragionare top down mi definisco il mio schemino e poi vado a riempire i vari pezzi qui il pezzo più facile da riempire è forse la catastrofe perché semplicemente se c'è una catastrofe aumento il contatore e tutto è finito se invece c'è il donatore devo fare della roba in più allora possiamo vedere prima in questo caso qui poi inseriamo l'algoritmo per scegliere il donatore quindi cosa dobbiamo fare qui sicuramente dobbiamo dire che il donatore sta prestando quindi non potrà più essere scelto finché non avrà finito di prestare e questo lo facciamo dicendo donatore.set sta prestando a true poi dobbiamo impostare la fine di questo di questo interruzione di corrente perché alla fine dell'interruzione faremo qualcosa quindi dobbiamo crearci un evento fine new evento in cui i campi pressoché rimangono gli stessi tranne la data nel senso che il tipo e anche il tipo ovviamente il tipo sarà evento punto tipo punto fine interruzione il nerc sarà invece il nerc di prima quindi lo prendo dall'evento di inizio adesso posso dire chi è il donatore a differenza di prima l'ho scelto donatore la data su cui fare l'ordinamento non sarà più la data di inizio ma la data di fine che prendo dall'evento stesso e poi continuo a tenermi dietro i miei due riferimenti alle due date perché nella fine li uso vedete per calcolare il bonus e allora continuo a portarmi dietro questi due riferimenti prima l'inizio inizio e poi la fine ovviamente lo devo aggiungere alla coda fine poi dobbiamo tenerci traccia del prestito giusto? perché ho trovato un donatore mi sta prestando energia e quindi dobbiamo andare ad inserire nella nostra mappa prestiti put chi è la chiave qui? è colui che dona no? perché qui stiamo salvando a chi ho donato per poi andare a vedere eventuali debitori quindi qui la chiave è donatore ma non è così è prima una get scusate prima ottengo l'hash set del donatore e a quel set ci aggiungo che cosa? il nerc a cui sto donando che è il nerc dell'evento è un po' difficile da fare insieme perché bisogna mettersi lì su carta a fare i vari casi però spero di essere abbastanza lineare quindi nei prestiti del donatore mi aggiungo il nerc a cui il donatore ha donato ma non basta aggiungere il prestito perché per come ho studiato la soluzione io dobbiamo anche aggiungere l'evento per cui questo prestito verrà cancellato quindi mi crea un nuovo evento cancella che verrà poi scatenato qui new evento questa volta il tipo è cancella prestito mantengo mantengo gli altri parametri uguali e la data qui quale sarà sarà la data di adesso quindi e punto get data o get data inizio sono uguali in questo caso più k mesi ora non mi ricordo la sintassi esatta ah c'è c'è un un metodo che aggiunge direttamente i mesi quindi più mesi in cui ci passo k poi anche se non mi servono probabilmente no non mi serviranno ma continuo a portarmi dietro i due riferimenti all'inizio e alla fine ovviamente questo va aggiunto anch'esso alla coda manca solo più una cosa che è l'algoritmo per selezionare eventualmente un donatore e va fatto qua ovviamente quindi prima cerco tra i miei diciamo debitori quindi posso vedere se nei miei prestiti quindi dis.prestiti punto get i miei prestiti quindi i prestiti del NERC per cui si è verificata l'interruzione l'abbiamo salvato nella variabile NERC se questo set ha una size maggiore di zero vuol dire che c'è qualche mio debitore quindi qui scelgo tra i miei debitori altrimenti prendo quello con peso arco minore allora potenzialmente possono esserci più debitori quindi potenzialmente io posso avere un elenco di oggetti NERC debitori devo scorrerli tutti e prendere quello col NERC minore allora come posso fare è abbastanza intuitivo mi definisco una variabile min che prendo che inizialmente imposto come un valore enorme il massimo valore per i long poi scorro la lista il set in questo caso e ogni volta che trovo un vicino con un grado di correlazione minore sovrascrivo questo valore e mi vado a salvare il riferimento questo è l'algoritmo banale per cercare minimi in una collezione di oggetti quindi for for NERC N in nei miei prestiti che abbiamo visto sono hanno una size maggiore di zero per ogni vicino devo andarmi a prendere il peso dell'arco che gli collega quindi mi vado prima a prendere l'arco dis punto grafo punto get edge tra il NERC e N che è il mio vicino e poi vado a vedere se il peso dell'arco che recupero con dis punto grafo punto get up edge weight edge se questo peso è minore di min la prima volta lo sarà sicuramente entrerà qua dentro e io mi setto il riferimento al donatore uguale N e vado sovrascrivere il valore di min con il peso purtroppo non basta ancora perché questo lo faccio solo se N non sta prestando giusto cioè il donatore lo posso selezionare solo se non sta prestando questo nel caso in cui ci siano nei miei prestiti dei possibili candidati un algoritmo molto simile lo si fa se non ci sono debitori ma quindi prendo i vicini quindi la prima cosa da fare è farsi dare la lista di vicini neibors neibors grafs punto neighbor list of dis punto grafo nerc e poi il codice è uguale a questo ma al posto di scorrere i prestiti scorriamo i vicini e ovviamente dobbiamo anche ridefinirci il minimo quindi in un caso scorro i vicini tra quelli che però a cui ho donato e qua invece li scorro tutti se per caso non c'è un donatore quindi se non entro mai né in questa if né in questa allora ci sarà una catastrofe altrimenti no dovremmo aver finito effettivamente eravamo stati abbastanza cattivi a quell'appello però diciamo che l'ho già detto a qualcuno di voi quando correggiamo il punto 2 se ci arrivate allora lì sì che guardiamo il codice quindi non serve che il programma esegua tutti i passi i run non scateni eccezioni se il codice è ben scritto la struttura è ragionevole comunque dei punti se non addirittura quasi il massimo lo prendete quindi lì andiamo veramente a vedere se avete capito come impostare il problema a differenza del punto 1 dove invece veramente lancia esegue ed esegue correttamente oppure no allora abbiamo ancora qualche minuto aggiungiamo qualche stampa e vediamo cosa tira fuori ho un po' paura anch'io quindi aggiungiamo delle stampe qui per i vari eventi print line stampiamo inizio interruzione nerc due punti più mettiamola sotto così possiamo inserire il nerc dopo di che possiamo anche stamparci se abbiamo trovato un donatore quindi system punto out punto println mettiamo uno slash t così andiamo avanti e trovato donatore due punti più donatore possiamo stampare quando c'è una catastrofe ok possiamo poi stampare la fine interruzione più e punto get nerc e stampare anche quando cancelliamo il prestito per vedere che effettivamente ogni tanto i prestiti vengono cancellati e punto get nerc stampiamo prima il donatore più mettiamo un trattino e punto get nerc no ah manca un più va bene andiamo a vedere com'è solo la to string del nerc per vedere che non ci stampi delle cose senza senso il value è no dovrebbe stampare solo una una sigla e allora definiamoci il nostro test model nuova classe class con un main test model in cui ci creiamo il nostro modello andiamo a creare il grafo ci creiamo un simulato anzi no abbiamo ancora dimenticato una cosa dobbiamo collegare il simulatore al model quindi creiamo qui un metodo public void simula nel modello in cui ci creiamo un nuovo simulatore e chiamiamo i due metodi sim.init occorre anche k int k qui per le varie interruzioni usiamo il dao load all power outages in cui gli passiamo l'identity map questa ce l'abbiamo nad map e questo anche this.graph e poi facciamo sim.run molto bene adesso possiamo chiamarla dal test model model punto simula k 4 vediamo se non esplode il computer sicuramente ci sarà qualche errore esatto prima null pointer vediamo dove qua this.prestity prestity l'abbiamo creata new hash map new hash set nel cancella prestito il donatore il donatore diverso da null questo vuol dire che comunque l'evento l'ha chiamato è già qualcosa vedete che comunque ha chiamato inizio interruzione ha trovato un donatore fine di una interruzione inizio interruzione eccetera cancellazione prestito da una null pointer che non so assolutamente a cosa sia dovuta lo controllo dopo e poi pubblico la soluzione corretta comunque dovreste vedere una lista con cioè nella console andare avanti i vari tipi di evento inizio fine eccetera quando vedete una cosa del genere vi sembra abbastanza ragionevole siete sulla sulla buona strada dopodiché ripeto che per esercizi come questo possono esserci n soluzioni diverse quindi se volete divertirvi un casino di sera magari a fare la vostra soluzione potete e poi questo andava collegato al controller anche lì se all'esame l'unica cosa che non fate è non collegare i metodi di simulazione al controller non fa niente cioè non è quello che conta va bene questa era l'ultima lezione su un tema specifico penso nelle prossime in quelle che rimangono vedremo sempre delle simulazioni d'esame però magari a partire dal primo punto grazie per l'attenzione e buon pomeriggio e buon pomeriggio Grazie.